Lentini, furto ed evasione. I carabinieri restano 35 anni in esecuzione di un provvedimento dell'autorità giudiziaria. Si era reso responsabile di furto ed evasione commesse a Lentini tra il 2014 e il 2020. Non è stato giudicato meritevole dell'applicazione di misure alternative alla detenzione a causa dei molteplici reati, prevalentemente contro il patrimonio di cui è responsabile anche di recente. I carabinieri della stazione di Lentini hanno notificato un'ordinanza a un pregiudicato 35 anni del luogo in esecuzione di un provvedimento del GIP del Tribunale di Siracusa. L'uomo destinatario del provvedimento è stato rintracciato dai carabinieri grazie al monitoraggio dei suoi movimenti ed è stato associato presso la Casa Circo Andareale di Cavadonna dove espierà dieci mesi di reclusione come disposto dalla competente autorità giudiziaria.